Via Alcandara a Favara è uno dei quei loghi addibiti a discarica abusiva che non smette mai di sorprendere. Ci risiamo, la zona torna ad ospitare diverse tipologie di materiali pericolosi. Diverse volte in passato ci siamo occupati del sito, a dire il vero più o meno tempestivi sono stati anche gli interventi di bonifica effettuati, ultimo in ordine di tempo lo scorso 12 ottobre dove gli operai specializzati della ditta Ruambiente che dopo il prelievo dei materiali pericolosi avevano spruzzato sul luogo uno speciale prodotto incapsulante utile a non spargere in aria le temibili polveri sottili sprigionate dall'amianto. Noi, su segnalazione dei cittadini, ieri pomeriggio siamo tornati in Via Alcandara. Dalla strada tutto sommato la situazione non appariva problematica, a parte due frigoriferi e quattro pneumatici che i soliti incivili depositano ai bordi delle strade. Vogliamo ricordare ai cittadini che è possibile usufruire di un servizio messo a disposizione dal comune, e cioè quello della raccolta di materiale ingombrante. Basta chiamare il numero di telefono 329-029-1496. Il terreno sottostante si presenta ricco di rifiuti, dagli immancabili copertoni ai resti di videogame, dal tamburello per bambini alle confezioni di latte ancora sigillate. Palese è un recente incendio che ha interessato la zona, visibili ancora i resti di strutture metalliche di pneumatici bruciati. Volgendo lo sguardo nell'altro lato della strada, abbiamo notato come il rispetto delle regole a Favara purtroppo non è un principio diffuso a tutti. Infatti, nonostante i cassonetti si presentavano vuoti, c'è stato chi ha preferito gettare la spazzatura fuori dai cassonetti. Adesso, non volendo fare la morale a nessuno, ancora una volta ci chiediamo, ma se non si effettuano i controlli adeguati e le conseguenti sanzioni, come si può pretendere che si faccia cambiare mentalità alla gente che persevera nel deposito selvaggio dei rifiuti di qualsiasi genere, non occorrono più gli appelli. Adesso bisogna agire anche nel rispetto delle tante persone civili che osservano le regole.